Ricca e fruttuosa l'attività del Consiglio regionale nel 2023 nel bilancio tracciato come ogni anno dal Presidente Lorenzo Sospieri, 23 riunioni e 16 leggi regionali approvate con 35 sedute dell'Ufficio di Presidenza che ha adottato 233 deliberazioni. Un dato su tutti, quest'anno nessuna legge è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri. Tra i testi legislativi più importanti ce ne sono ovviamente alcuni come la legge urbanistica, la disciplina del sistema turistico regionale e quella del sistema culturale. E poi ci sono altri provvedimenti di grande impatto come l'istituzione del nuovo comune di Pescara, il superamento delle comunità montane, disposizione a sossegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio di Lizio e ancora tanti altri aspetti in tema culturale e provvedimenti adottati. È stato anche l'anno della rete ospedaliera per l'Abruzzo che prevede 4 ospedali con funzioni di hub per le reti tempo dipendenti, 6 ospedali di base, 4 di primo livello e 2 presidi di era disagiata, 6 di pronto soccorso. Tra gli interventi del bilancio della Regione inoltre ci sono 13 milioni di euro come aiuto al settore agricolo, 7,5 milioni per sport, turismo e grandi eventi, 12 milioni per la protezione civile e 7 per le borse di studio. Nelle fasi più dure che ha affrontato la nazione, l'Europa, il mondo e quindi anche l'Abruzzo della pandemia, noi abbiamo avuto una buona capacità di reazione sia in termini di assistenza sanitaria che di assistenza a tutti i settori economici che soffrivano. La Regione chiude questa esperienza di legislatura solida dal punto di vista finanziario e devo dire che il Consiglio regionale a mio avviso è stato il cuore di questa legislatura, ha approvato tante riforme strutturali. In questo ultimo anno, il 2023, ma si sapeva che saremmo giunti a conclusione di alcuni dossier importanti, voglio solo ricordare il testo unico per la cultura, la nuova legge urbanistica, la rete sanitaria, la finanziaria, la legge di stabilità e il bilancio. Dal punto di vista delle strutture, avviati i lavori per la costruzione del collegamento meccanizzato tra il termine di Colle Maggio e Viale Rendina, avviato il cantiere per Castel Camponesca e il suo restauro e poi gli interventi per la sala di Cecco a Pescara, è stata potenziata inoltre la struttura tecnologica e informatica del Consiglio contro gli attacchi hacker. Anche le autorità indipendenti hanno portato avanti un grande lavoro come la commissione pari opportunità, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza, il garante dei detenuti cifaldi. Si attende ancora la nomina del difensore civico dopo la morte di Gian Donato Morra, anche l'ufficio stampa del Consiglio ha prodotto molti contenuti migliorandosi sempre di più. Insomma, un bilancio più che soddisfacente per Sospiri.